nuovo video nuova ufficialità e nuova location ragazzi ebbene sì mi trovo in salotto oggi lo studio per causa di forza maggiori non si può utilizzare niente veniamo noi ragazzi e manuel aivu è un nuovo giocatore della cremonese è arrivata anche l'ufficialità aivu arriva a titolo definitivo da rapid vienna per 3 milioni e mezzo di euro bonus compresi e manuel aivu è un difensore nigeriano con doppia nazionalità nigeriana austriaca che arriva appunto da rapid vienna è un difensore di piede destro abituato spesso giocare nel centro-destra della difesa quindi probabilmente non magari subito da firenze sicuramente con la ternana no magari non subito da firenze ma magari neanche con la roma non so col torino sicuramente prenderà il posto di matteo bianchetti matteo bianchetti quindi si andrà a formare la difesa partendo da sinistra con vasquez kiriches centrale e aivu a destra aivu è un talento è un talento austriaco nonostante la sua giovane età infatti è un 2000 è un 2000 compie gli anni a dicembre quindi ancora 21 anni a 21 anni e ha già 106 presenze all'attivo nella massima serie austriaca condite da sette gol sei presenze in europa league e due in conference league è uno dei maggiori talenti dal calcio austriaco infatti ha già 13 presenze con la nazionale under 21 e quindi la chiamata della cremonese ovviamente per me gli spalancherà le porte in un futuro non tanto lontano secondo me alla nazionale maggiore allora aivu non secondo me non va a completare il reparto difensivo della cremonese perché lo sappiamo è molto vicino anche oscar cala che dopo una prima offerta rifiutata da lione sembra avere accettato una seconda offerta da parte della cremonese e quindi aivu ripeto potrebbe essere non l'ultimo tassello difensivo della della squadra che affronterà la serie all'anno prossimo aivu è un metro 85 di giocatore molto veloce molto veloce abile negli anticipi e quindi darà una grossa mano anche lui alla alla retroguardia della cremonese alla rincorsa salvezza della cremonese allora ragazzi sento tante tanta gente che ma anche giustamente non conoscendo i giocatori perché lo sappiamo che stanno arrivando tanti giocatori da campionati stranieri non conoscendo i giocatori dicono andiamo in giù direttamente in serie facciamo la fine dal venezia però no cioè calma calma perché prima di tutto non si vanno a prendere giovani a caso si vanno a prendere giovani che comunque sono molto ambiti sono in rampa di lancio e comunque abbiamo un direttore generale un consulente strategico scusate come braida che di calcio ne sa le mani in pasta ce l'è un po ovunque quindi non va a prendere il primo il primo giovane straniero che gli capita su ai vu c'erano varie squadre della premia anche varie squadre della bundesliga quindi voglio dire e poi essendo anche nel giro della nazionale andrea 21 è maggiore vuol dire che è qualcosa di buono ce l'ha questo ragazzo ma i giocatori che arrivano dai campionati stranieri non ci permettono di salvarci non è vero non è vero guardate lo spezia facciamo l'esempio dello spezia si è salvato con chi we or che è arrivato dalla serie a slovacca nicolau che faceva la riserva all'olimpiacos quindi ragazzi non vuol dire niente non vuol dire niente secondo me la squadra sta si sta costruendo bene io non ho paura non ho un timore si che non è quello di comprare giocatori stranieri perché i giocatori stranieri per me sono sono bravi sono validi ma forse è il tempo con cui si amalgheranno ma ganera ma amalgheranno nel gruppo e solo questo mi fa un attimo pensare ma io sulla capacità dei giocatori sul valore dei giocatori non non ho alcun dubbio quindi ragazzi secondo me braida sta facendo braida e giacchetta stanno facendo un ottimo lavoro un ottimo lavoro stamattina ho fatto il video su escalante e ho detto che la squadra è sempre più competitiva per la salvezza lo è anche dopo l'arrivo di AIW e lo sarà ancora di più ovviamente con l'arrivo di Dessers che siamo lì siamo lì agli ultimi dettagli ma è praticamente fatta quindi ragazzi diamo il benvenuto a Emmanuel AIW perché è un giocatore giovane ma con già moltissima esperienza sia nel suo campionato da dove arriva con appunto 106 presenze ma anche in campo internazionale perché la sua Europa League da titolare se l'è fatta e ha anche due presenze all'attivo quest'anno in Conference League nei preliminari di Conference quindi ragazzi è un acquisto che secondo me va bene è un acquisto che va benissimo sono soddisfatto e niente ragazzi ci sentiamo breve ci sentiamo breve perché tra poco arriverà la nostra punta titolare la nostra punta che farà il gol che probabilmente sarà Dessers quindi ragazzi non smettete di seguirmi iscrivetevi fate iscrivere amici parenti chi volete mettete un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate di Emanuel AIW qua sotto nei commenti a presto ragazzi ciao ciao